Grazie per averci seguito fino a qui. Una cosa che voglio ricordare è l'importanza di Tutto è Vita che ha sostenuto fortemente, dobbiamo anche a Tutto è Vita l'organizzazione di questo convegno. Tutto è Vita ha sostenuto un altro progetto di Death Education che presenteremo, dobbiamo molto al padre spirituale di Tutto è Vita che poi anche il gruppo che guida questo interessante gruppo di persone religiose che si chiamano i ricostruttori e che stanno promuovendo a livello nazionale dei percorsi. Ecco Daniela è meravigliosa, vi presento Daniela Di Lucia, molti di voi la conoscono, è veramente una persona eccezionale, la conoscete perché pazientemente mantiene i contatti con tutti e fa in modo che le cose esattamente funzionino alla perfezione. Hai visto prima ti ho chiamato disperatamente? Sì no, è solo che il professor Severino è al centro della sala. Dove è che non lo vedo? È dritto davanti a te c'è il professor Severino. Ah ecco, stavamo aspettando. Allora io chiamerei il relatore della tavola rotonda, avremo come chair il professor Vincenzo e direttore del Dipartimento Vincenzo Milanesi, avremo l'eccellenza, sua eccellenza Monsignor Marcello Sorondo che è preside della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali, il maestro, mio maestro Emanuele Severino, al quale dedico interamente i miei studi perché sono psicologa ma sono innanzitutto filosofa, quindi ho avuto il coraggio di voler affrontare questo tema che è appunto quello del sapere che si deve morire e che cosa significa per la vita e il professor Vincenzo Vittiello dell'Università di Napoli, vediamo se riesco, eccoli che stanno arrivando, invece che sedersi tra le autorità davanti si sono nascosti. Allora la tavola rotonda è una tavola rotonda importante perché abbiamo ancora a che fare con il rapporto tra fede e ragione. Ecco Emanuele Severino, una lunga amicizia lega il professor Severino e Milanesi, mio maestro, il professor Vincenzo Vittiello, eccoci. Io vi cercavo disperatamente, io vi cercavo disperatamente, non vi vedevo, vi eravate nascosti. Io pensavo che avreste già incominciato. Ah ho capito, allora prego accomodatevi. Ecco, farei così, lasciamo Sua Eccellenza qui accanto a Severino e regolatevi insomma come preferite. Prego, Vincenzo. Perché salvezza tra finitudine e eternità? Il titolo è un programma, nel senso che se siamo eterni qual è il senso della salvezza? Allora, se siamo assolutamente finiti, cioè che dopo la morte non c'è niente, è possibile pensare la salvezza? Chi parla di salvezza sappiamo che il pensiero della salvezza è stato strutturato in forma razionale dal cristianesimo e sviluppato ampiamente dalla dottrina e dalla teologia cristiana cattolica, quindi ho pensato che questo momento di confronto tra chi rappresenta eternità, chi rappresenta il messaggio cristiano e chi rappresenta, ma forse siamo destinati al nulla, sia sicuramente e certamente un momento sostanziale ed essenziale per capire come si svolgerà poi il resto del congresso. Apriamo dunque con questo confronto, sapendo che ovviamente il punto di vista mio, che ho organizzato il tutto, è a partire dall'eternità. Se non avessi capito che cosa significa eternità, non avrei neanche avuto il coraggio di rendermi conto che siamo destinati a morire. Lascio la parola dunque a Vincenzo Milanesi. Grazie, non posso e non voglio nascondere l'emozione di essere seduto qui al tavolo con tre figure la cui autorevolezza mi esime da qualsiasi presentazione. Questo convegno nasce da una esigenza di approfondimento di un tema cruciale con il conforto e il contributo interdisciplinare di diverse specialità di studio dell'umano, nasce in una prospettiva di interculturalità, di approcci a questi problemi, ma noi veniamo da una tradizione, quella greca, che sono le nostre vere radici, nella quale gli uomini, fin dai poemi omerici, sono definiti come brotoi mortali. Con questa tradizione, prima di tutto, dovremmo misurarci. Una tradizione che per certi aspetti ha, vorrei dire, da sempre tentato di esorcizzare la morte in quanto tale. Pensiamo all'argomento di derivazione stoica, per cui se c'è la morte non ci siamo noi, se non ci siamo noi c'è la morte e non dobbiamo temerla. Pensiamo a quello che la riflessione filosofica sull'aldilà, sull'immortalità, attraverso il pensare della metafisica che è dell'Occidente, forse l'elemento più specifico, ci ha condotto ad una sintesi tra questa tradizione e il messaggio di salvezza del cristianesimo che da Tommaso d'Aquino in poi, con autorevolissime presenze nella scena culturale europea, ci ha portato fino all'oggi. Ma problematizzare proprio questa tradizione, mettere in discussione ciò che pare ovvio, che la morte ci sia e che cosa sia la morte è credo il senso di questa tavola rotonda, di questo incontro. Ripeto, l'autorevolezza dei partecipanti davvero mi fa dire che non è il caso di dire che non è il caso di presentarli. Marcello Sanchez Rondo, cancelliere oltre che accademico, studioso di filosofia della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali, vescovo e teologo che viene anche lui quasi dalla fine del mondo, come ha detto Papa Francesco essendo argentino appunto, ecco, Vincenzo Vitiello è merito dell'Università di Salerno e che da tanti anni conosciamo come una delle figure più significative del dibattito filosofico in Italia e non solo, ed Emanuele Severino che è il, come dire, forse più stimolante pensatore che oggi in Italia abbiamo e che da tanti anni su questi temi della finitezza, della mortalità, dell'essere, del significato di questi termini nella cultura filosofica di cui siamo eredi è davvero personaggio straordinario, se posso permettermi così di definirlo. I tre pensatori che sono qui a questo tavolo rappresentano, come accennava Inestestoni, giustamente è così non può che essere così, prospettive tra loro diverse. Se potessi usare un'espressione poco accademica direi che costituiscono una sorta di triangolo delle Bermude di tipo culturale dal quale davvero ci aspettiamo progetti, prospettive di riflessione, stimoli di approfondimento senza pari. La parola al Vescovo Monsignor Marcello Sanchez Sorondo. Beh, innanzitutto veramente ringrazio, mi sento molto onorato di essere qui in questa magnifica sala di questa famosissima città della cultura, in questa in definitiva università che porta avanti, e sappiamo delle tradizioni importantissime. Naturalmente, fra l'altro, dove ha lavorato Galileo, io sono all'Accademia fondata da Galileo e dove ci sono state le polemiche appunto con Galileo e gli Aristotelici, tante cose. Quindi, inutile dire che per me è un onore quasi toccare queste sedi. E ringrazio quindi concretamente a Ines, che mi ha convinto per due volte, perché... Quindi, e naturalmente all'introduzione che ci è stata fatta dal decano della facoltà, che veramente mi ha piaciuto moltissimo, e sono ospite del loro seminario, della loro facoltà, che è anche stato modello del Concilio del Trento, quindi... Anche per me toccare quelle cose lì sono molto significative. E naturalmente l'introduzione è fatta dal rettore milanese. Ma, voglio dire, sono molto sensibile a questo argomento, non solo perché sono prete, non solo perché ho una certa età, ma anche perché vengo proprio dall'Argentina, dove ho accompagnato una mia coniata, che voleva molto bene, durante praticamente 25 giorni, fino a che è morta. E quindi ho visto dal vivo quanto importante è stata l'introduzione che avevamo sentito. E veramente è qualcosa che bisogna sperimentarlo, che bisogna essere vicino. E questa cugina era curiosa perché mi diceva a me, quasi anticipando quello che poteva avere, ma comunque si sentiva benissimo, e diceva sempre in confronto alle altre amiche, che aveva anche questa capacità di creare amicizie, ma senti, io sto benissimo, guarda questa tiene questo, questa questo, questa... Invece questa poveraccia ha avuto un cancro, hanno fatto un intervento, il colon, e subito questo si credeva che aveva servito per qualcosa, ma in 20 giorni ha avuto tutto il fegato, eccetera, e quindi niente da fare, in tre mesi è partita. E quindi l'ho accompagnato in questi ultimi, in questi ultimi mesi, e veramente è qualcosa di molto importante essere vicini a coloro che sono in questa situazione, anche per capire la nostra natura umana, anche per la nostra riflessione. D'altra parte l'Accademia si è occupato del tema, l'Accademia del Papa, cioè la Pontificia Accademia della Scienza, che è quella, in definitiva, fondata dal Principe Cessi e De Galileo, si è occupato più di una volta a richiesta del Gardena Ratzinger, quando era appunto preside della Congrazione della Fede, per cercare di stabilire, non dico il momento della morte, ma lo stato della morte, che è il punto di vista biologico, fisico. E ha seguito il cosiddetto criterio della morte cerebrale, che è quello che ormai accetta la Chiesa, il Magisterio Ufficiale della Chiesa, cioè la morte e la morte del cervello. Quando il cervello non funziona, l'anima, per fortuna in questa discussione abbiamo perfino trovato un testo di Sant'Agostino, che naturalmente il Papa Ratzinger ama molto, e quindi abbiamo messo quel testo lì, dove Sant'Agostino dice, proprio commentando la Genesi, che quando uno ha un grande problema col cervello, l'anima va via del corpo. Quindi per farla sintetica, la morte, secondo il criterio che oggi noi, e che l'ha sposto il Papa Giovanni Paolo II, davanti a molti medici che si occupano del trapianto, nel 2000, e la morte del cervello. E quindi naturalmente i criteri della morte l'hanno voluto, ma a questo punto noi diciamo che questo è. Quindi, diciamo, ci abbiamo occupato anche di questo, sia dal punto di vista della mia esperienza personale, sia dal punto di vista dell'Accademia, almeno da questo punto di vista. Mi ricordo che in quel ultimo incontro che abbiamo fatto, abbiamo fatto quattro incontri su questo, ci è venuto perfino il Cardenal Martini, che era membro dell'Accademia, insieme al Papa Ratzinger, nominati tutti e due dal Papa Giovanni Paolo II. E Martini, quando i medici hanno detto, molto bene, che in fondo il criterio per loro adesso è la morte cerevale, Martini ha detto, ma se lo dicono i medici, dobbiamo anche dirlo noi, e ci ha messo a noi anche dire, nella votazione, noi dobbiamo prendere posizione. E abbiamo preso posizione. Seguendo, in definitiva, la scienza. Seguendo il criterio, oggi, chi più o meno viene stabilito, la scienza. Detto questo, il tema è la salvezza, che mi è stato specialmente assegnato a me, nel contesto della finitudine e dell'eternità. e naturalmente mi dovete scusare, perché qui dobbiamo andare a grande linee e purtroppo si tradisce le sfumature dei pensieri. Ma naturalmente il problema della salvezza è un problema che si hanno fatto gli esseri umani dall'inizio. Oggi, anche all'Accademia, abbiamo fatto un convegno bellissimo sulla via dell'umanità, via umanitatis. E già ci hanno mostrato che 200 mila anni prima già ci sono segni dell'interesse in diversi culti rituali, specialmente presente nelle tombe, dell'interesse dell'uomo per questo problema della salvezza. Ma possiamo dire che quando comincia la storia scritta, in modo generale, la cultura dell'Oriente, i grandi testi della Valgao del Gita, eccetera, mettono la salvezza nel tutto, la consapevolezza di essere in qualche modo parte di questo tutto, nel sé, eccetera. senza molte determinazioni, ma la linea generale è un po' questa. I greci, invece, fanno un appoggiamento antropologico, come sappiamo, fortissimo della loro cultura e, a partire dell'essere umano, che, come sintetizza San Paolo nel discorso dell'Aeropago, considerano loro che è della stirpe divina, genus tuzzeu, genus tuzzeu, lui prende aratro, aratro dipende da Aristotele, più o meno, come l'ha dimostrato il professor Berti, che è un professore di qua, e mi piace citarlo, perché è un mio amico, e quindi San Paolo prende per volo questa affermazione filosofica che l'uomo è della stirpe divina e pensa un po' la cultura greca, come sappiamo, Dio un po' come appunto un essere in un certo modo personale, intelletto, che conosce tutte le cose, il pensiero del pensiero ad Aristotele, che per prima volta Aristotele dice questo vivente che ha questa vita massima dell'intelletto, che si conosce a se stesso, e questo è ozeos, questo è Dio. E naturalmente la salvezza sta in un certo rapporto con questo Dio, un rapporto di conoscenza, intellettuale, di comportamento, anche perché Aristotele ha una etica e questa etica è per il bene della persona, ma anche per, in certo modo, la differenza fra il bene e il male. Quindi direi la salvezza lì è la conoscenza di Dio in qualche modo, è l'assimilazione a Dio. Naturalmente il cristianesimo su questo tema è molto radicale e diciamo intanto assume molte delle tessi dei greci una cultura parallela perché la cultura ebraica è una grande influenza greca in questi temi, ma diciamo così e qui naturalmente c'è la spiegazione biblica della salvezza, la sotteria, la salvezza e la spiegazione più teologica. Ma è chiaro che già Cristo dice di essere lui stesso la salvezza. Lui stesso la salvezza che viene a comunicare la pienezza, secondo il Maggiore Giovanni, la pienezza della grazia e della verità. Questa pienezza del resto la seconda persona è Logos si ha fatto carne Sars e ha portato una vita nuova e questo è un concetto nuovo, vita nuova che noi chiamiamo la grazia. La grande novità quindi è come lo dice San Pietro nella seconda lettera noi siamo participe della natura divina grazie a Cristo che ci ha portato questa vita divina. Quindi la salvezza sta a partecipare di questa grazia di Cristo il quale ce l'ha in pienezza adesso non voglio spiegare la grazia capitale ma comunque tutta la Chiesa non è altro che la diffusione di questa grazia. Adesso a questo punto bisogna dire una cosa una cosa è una considerazione oggettiva di che cosa è la salvezza per la Chiesa e un'altra cosa è una considerazione soggettiva perché dal punto di vista soggettivo come ha detto il Papa Francesco e non ha fatto altro che ripete San Tommaso in buona misura quando ha parlato con Scalfari che gli diceva anche gli atti si possono salvare sì dice il Papa coloro che seguono la coscienza secondo come viene informata la loro coscienza su che cosa è il bene e che cosa è il male secondo la scienza che hanno si salvano o no secondo hanno seguito la loro coscienza quindi la prima cosa che bisogna dire è che dal punto di vista delle persone concrete sempre è stato Magistero della Chiesa può dire anche tradizionale che ognuno si salva seguendo la sua coscienza e anche alla grazia di Cristo seguendo la sua coscienza senza bisogno di mediare necessariamente i sacramenti anzi a noi ci consigliavano nel seminario che davanti a un moribundo non è che bisogna dare una lezione del catechismo e cercarlo di convertire se non era della religione cattolica ma bisognava prepararlo a morire secondo la sua la sua religione secondo la sua coscienza in definitiva e questo è un'insegnanza molto tradizionale dell'epoca più undicesimo eccetera quindi voglio dire questo è il principio fondamentale ma naturalmente del punto di vista oggettivo noi consideriamo che la salvezza viene di Cristo e quindi consideriamo che è tramite il contatto della coscienza con l'insegnamento di Cristo e che ci porta questa novità che è la grazia che è una nuova creazione allora questa è la definizione di cosa la grazia è già un altro tema molto importante ma delicato perché ognuno degli apostoli la dice in certo modo diversa San Pietro dice che è una partecipazione della natura divina San Paolo dice che è una nuova creazione in Cristo siamo nuovamente creati con un nuovo essere San Giovanni dice che è l'inizio di una nuova creatura ma comunque c'è una novità forte portata da Cristo e qui c'è il punto sull'essere umano perché questa grazia non può inserirsi in un cane o in un gatto diciamo così o in una realtà materiale sino solo transeuntemente solo si inserisce nell'essere umano che del punto di vista biblico è immagine di Dio e della stirpi divina come dicevano i greci e del punto di vista ecco del punto di vista filosofico teologico qui io mi voglio riferire a San Tommaso partecipa dell'eternità partecipa dell'eternità c'è un testo ultimo di San Tommaso nel suo famoso trattato sulle sostanze separate cioè sugli angeli dove dice che l'essere umano è infinito del punto di vista della forma cioè del punto di vista dell'anima che è una forma sussistente adesso sono tutte cose un po' tecniche ma che vuole dire una forma che non ha un principio di corruzione quindi non può morire mi fa piacere che il retorio abbia parlato di San Tommaso e è invece finito dal punto di vista dell'essere perché non ha l'essere per essenza che ce l'ha solo Dio quindi tutte le altre realtà al di fuori dell'essere umano e degli angeli e quindi la realtà del mondo che noi conosciamo e quindi i non viventi e i viventi sono finiti sia dal punto di vista della forma sia dal punto di vista del corpo sia dal punto di vista appunto dell'essere e quindi solo le angeli e l'essere umano hanno questa partecipazione dell'eternità della sussistenza di Dio e appartengono di San Tommaso al genere delle realtà eterne sussistenti necessarie tutte affermazioni che sono fortissime e che naturalmente però voglio dire questa è la base sulla quale si può inserire la grazia anche San Tommaso dice che proprio perché l'essere umano è così è sempre aperto alla grazia di Dio per più che pechi negli ultimi testi nella questione di Malo è bellissima per più che pechi contro diciamo una interpretazione un po' più diciamo di ordine protestante non può distruggere quella positività che c'è radicata nella sua ontologia più profonda di apertura alla grazia che è questo di godere di un'anima che è una forma sussistente incorruttibile che non ha un principio della corruzione quindi diciamo così questo è la base sulla quale si inserisce si inserisce la grazia ma il fatto di essere appunto un essere come dicevano i platonici nell'orizzonte dell'eterno e del tempo che Sant'Omaso spiega in quell'altro modo più più metafisico non è sufficiente per la salvezza nel senso che lui deve operare secondo la sua coscienza del bene e del male deve decidere la sua vita e operare secondo la sua coscienza seguendo il bene e evitando il male perché dal punto di vista pratico c'è un principio fondamentale che deve regolare l'attività degli uomini che è il bene e evitare il male e quindi qui sarà giudicato finalmente per le sue opere secondo il bene e il male naturalmente in ultima analisi per il suo amore che è l'amore al bene e perciò come dice San Giovanni la Croce nell'ultimo giorno saremo giudicati secondo il nostro amore e va bene non voglio allungarmi di più già ho superato il mio tempo ma credo di aver lasciato un po' il tema della questione di come viene intesa la salvezza del punto di vista del cristianessimo e un po' previamente in un modo molto ma voglio solo dire che per esempio per Aristotele utilizza la parola salvezza per spiegare l'atto cioè una delle sue nozioni più importanti dicendo che l'atto è la salvezza della potenza e dice sotteria quindi può dire questo concetto un po' religioso viene messo anche in filosofia concludo con questo grazie ma non funzionano questi perché io preferirei mi sentite? benissimo allora scusate perché a vedere dunque ho avuto modo di conoscere l'attuale eminenza padre Sorondo eccetera molti anni fa e l'ho conosciuto l'ho conosciuto proprio nella sua città Buenos Aires perché questo ricordo di un'amicizia antica perché mi auguro che nel perdono generale di cui lui è certamente capace sarò compreso anche io almeno in questo come dire in questa occasione e in questo e in questo momento perché io vorrei fare un discorso diverso anche io legato alla salvezza però vorrei che tra le tante cose che si debbano salvare sia salvato anche il tema di questo nostro incontro e cioè la morte vorrei salvare la morte perché mi sembra che e continuo il tentativo e da parte delle delle religioni e da parte della filosofia e continuo il tentativo di voler andare oltre la morte cioè nel momento stesso in cui la si accetta la si vuole non salvare ma la si vuole redimere i due concetti sono profondamente diversi salvare significa serbare cerchiamo di essere veramente brotoi capaci di salvare la morte e già questo mi porta su una indicazione precisa che proprio la separazione vita-morte è quello che noi dobbiamo mettere in discussione molti filosofi anche grandi della contemporaneità faccio due nomi soltanto per dire all'altezza in cui mi muovo in cui si muovono loro per inteso Wittgenstein e Gentile che dicono noi possiamo pensare soltanto alla morte degli altri e non alla propria morte ecco è proprio questo il punto che io vorrei attaccare noi non riusciamo mai a capire la morte di altri se questa morte noi non la viviamo vivere la morte salvare la morte nel senso che noi viviamo e viviamo quotidianamente la morte questo è il punto che dobbiamo accettare perché già come dire rinviare la morte trasferirla in un momento finale conclusivo della vita è già come dire stare all'interno di una logica di separazione la logica dell'amico nemico la logica del vero falso la logica della logica del non logico e così via di seguito e credo che in quanto filosofi noi ci dobbiamo proprio occupare dell'origine di questa distinzione di queste separazioni perché altrimenti non facciamo più il nostro il nostro mestiere e questo lo dico ai filosofi per quanto invece riguardo a tutti quanti noi io dico che dobbiamo porci una domanda ancora una volta chiedo scusa all'amico padre Sorondo per quella ragione che invocavo prima chiedo scusa e questa volta voglio ripararmi dietro una citazione di una pensadora che è nata in Ispagna ma che ha vissuto anche molto in America Latina in verità più a Cuba e nel Messico che non ma qualche puntata l'ha fatta in Argentina e cioè Maria Zambrano in un momento cruciale della nostra vita eravamo nel 1945 pubblica uno scritto Agonia de Europa il riferimento al titolo di Unamuno è chiaro l'agonia del cristianesimo ma in questo testo Maria Zambrano poneva una domanda una domanda cruciale credo che dall'orizzonte di questa domanda non siamo ancora usciti facendo riferimento all'interpretazione del cristianesimo che vedeva scorrere da Agostino sino ad Egel si poneva una domanda questa il cristianesimo europeo è stato vero cristianesimo? è possibile pensare ad un cristianesimo che sia europeo e che conservi l'essere cristianesimo perché continuava il cristianesimo europeo e questo è anche intrinseco al tentativo di redimere l'uomo dalla morte il cristianesimo europeo ha celebrato il dio a sedor il dio creatore il dio potente il dio dell'onipotenza la noesis noese ossa aristotelica l'atto prima della potenza non dobbiamo cercare invece di pensare Maria Zambrano si esprimeva in un come dire con una terminologia che io non come dire non condivido che non condivido non per motivi teorici ma proprio un dio mericordioso ecco nei confronti di questo dio mericordioso beh io non solo non solo faccio riferimento altro alla cultura greca faccio riferimento a Sofocra che quando parla del dio del dio nuovo nel dio che si origina del dio che si presenta agli uomini in quanto dio dice dei notatos antropon de piotatos il più tremendo incomincia con il più tremendo rispetto agli uomini e anche il più mite ed allora diciamocela tutta è una favola parlare meglio non è una favola anzi è un errore teologico profondamente teologico è un'ingiustizia umana nei confronti di dio affermare che dio è il dio di amore perché così lo limitate i testi sacri dicono che dio ha amato e odiato tutta la bibbia parla dell'orghe tu zeud dell'ira di dio ne vogliamo tenere conto oppure no ma adesso entriamo nell'ambito del cristianesimo a me la figura di cristo come la figura del perdono e la figura di questo amore non convince ma non convince perché il cristo a cui faccio io riferimento non è il cristo dei filosofi ma è il cristo dei vangeli ed è il cristo di paolo il cristo dei vangeli guardate faccio qui una citazione precisa nel capitolo quinto di matteo del vangelo di matteo nel capitolo quinto ai versetti credo se la memoria non mi inganna tra 44 e seguenti c'è l'affermazione a tutti i noti a tutti i nota comportatevi come il padre nostro che nei cieli che fa piovere sui giusti sugli ingiusti e fa sprendere il cielo sui buoni e sui malvagi nota notissima questo nel capitolo 5 nel capitolo 10 versetti 34 di questo sono sicuro seguenti c'è un'altra affermazione io non sono venuto mittere pacem ma sono venuto con la spada sono venuto per dividere e ma non per dividere amico e nemico no per dividere il marito dalla moglie il figlio dal padre la figlia dalla madre e così via di serio per dividere dagli oicoi a coi da coloro i quali abitano la medesima casa cioè da coloro che stanno sulla terra a dividere gli uomini dagli uomini questo sta a dire Cristo questo sta a dire Cristo ce ne vogliamo far carico e guardate questo dividere questo dividere viene dopo perciò ho tenuto a dire capitolo 5 e capitolo 10 perché questo dividere viene dopo l'unione dopo l'amore noi possiamo comprendere Dostoevsky grande interprete di questi passi nell'idiota proprio questo fa anticipa anticipa l'odio la separazione alla come dire all'amore totale la figura del principe Mischin è questa questo fa Dostoevsky ma capite è possibile pensare che io debodiare l'odio degli uomini debodiare la terra per poter per poter capire il cielo e l'amore totale ma no qui stiamo esattamente in una situazione opposta bisogna prima amare per poi sapere odiare per avere la spada per dividere è questo è questa contraddizione forte che dobbiamo e da allora il tempo passa veloce credo di avere ancora pochi minuti dunque e allora c'è un determinato come pensare questa enorme contraddizione questa enorme contraddizione che ci presenta la figura di Cristo ma attenzione pensarla qui significa anche viverla ma viverla giorno per giorno questo significa vivere la morte non la morte come la fine della vita per cui ci facciamo come dire il racconto finale e poi siamo buoni siamo cattivi eccetera eccetera no no qui bisogna vivere la morte giorno per giorno averla continuamente davanti sentirla sentirla come l'espressione nostra questa è la finitudine se noi ci raccontiamo storie il finito il finito il quale si inquadra nell'infinito eccetera eccetera ma chi pensa un finito che si inquadra è l'infinito e qui Emanuele Severino ha totalmente ragione chi ragiona così ha già come dire tolto il finito nell'ambito nell'ambito dell'infinito ha tolto il finito nell'ambito dell'eterno e qui ecco allora pensare il finito e pensarlo pensare cioè la morte significa viverla istante per istante significa attenzione c'è un grave pericolo c'è il pericolo di intendere l'affermazione del finito come una negazione dell'infinito se la finitezza del finito se la mortalità viene considerata come il limite ultimo e beh questo significa assolutizzare la morte cioè trovare un altro assoluto cambiare il segno più con il segno meno non cambia niente la morte ci impone non davanti ad una risposta ma davanti ad una domanda e questo è il problema io non nego affatto la possibilità dell'infinito non nego affatto la possibilità dell'eterno non nego affatto la salvezza che viene dopo dico soltanto che questo è il grande mistero e lo dobbiamo capire non come un mistero che poi verrà non capiamo tutto capiamo una parte eccetera eccetera no può darsi può darsi ma guardate che se questo eterno c'è e allora Emanuele Severino ha totalmente ragione se questo eterno c'è il finito non c'è il mortale non c'è questo bisogna dirlo subito poi però mi voglio riservare una piccola parentesi per Severino perché Severino potrebbe immediatamente dire no guarda Enzo tu devi andarti a leggere altre cose che mi sono letto le ho presenti e te le voglio e le voglio dire e no perché qui parliamo di un tema insomma come è stato giustamente detto da milanesi ci troviamo davanti ad un pensatore a parte la statura non italiana ben più che italiana a parte questa statura ci troviamo davanti ad un pensatore che ci ha posto delle domande radicali alle quali o ci troviamo preparati ad affrontare io non dico rispondere ma trovati preparati a come dire affrontarli oppure cambiamo mestiere insomma diciamolo subito facciamo altre cose ecco allora si pone un determinato problema come intendere questo mistero e scusate io ancora che quando nei momenti di enorme superbia oso dichiararmi cristiano ma cristiano di nessuna chiesa sia ben chiaro o forse di un'unica chiesa la chiesa invisibile dunque quando sono proprio così superbo ed allora mi richiamo ancora una volta al testo al testo dei Vangeli e c'è un punto in cui Gesù dico ancora Gesù Gesù pone una domanda ai suoi discepoli guardate una domanda fondamentale e voi chi dite che io sia e attenzione voi chi dite che io sia non lo dice l'uomo Gesù lo dice l'uomo Dio colui il quale già precedentemente aveva detto io sono la via la vita e la verità qui sta parlando la verità ora se il mondo greco dico Platone è stato talmente elevato da far sì che la ragione ponga la domanda la verità che cos'è la verità con Cristo noi abbiamo un rovesciamento radicale qui il punto del cristianesimo e il rovesciamento radicale è fatto che non la ragione interroga la verità ma la verità che pone agli altri la domanda è come verità la pone e voi gli dite che io sia ora lascio stare la risposta tu sei il figlio del Dio vivente eccetera eccetera se poi in seguito mi viene obiettato ho una risposta forte ricordate che subito dopo anzi la do subito ricordate che subito dopo due o tre versetti dopo quando Gesù annuncia a Pietro la sua prossima morte Pietro facendo un passo indietro dice non sia mai e Gesù subito risponde a colui il quale aveva detto tu sei la pietra eccetera eccetera allontanati tu sei ancora preda di Satana sei ancora troppo legato al mondo questo voleva dire sei ancora troppo legato ed allora se la verità chiede ad Adano non aspetta di essere interrogata dalla ragione ma essa che chiede voi ti dite che io sia evidentemente la verità qui davvero si considera figlia figlia di che cosa figlia del mistero completamente invasa dal mistero ed allora la verità è essa stessa per noi un mistero perché invasa dal mistero ora questa qui non è una ragione o non è la verità che dice il rapporto tra verità e mistero perché altrimenti togliamo la domanda facciamo della domanda una risposta vogliamo essere all'altezza di questa domanda salvare la morte è questo grazie 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 a tutti grazie a tutti allora abbiano pazienza se anch'io faccio un po' di ringraziamenti ma è d'obbligo innanzitutto l'università di Padova che ha qui il suo rettore per antonomagia l'amico vincenzo milanese e poi i correlatori li ringrazierò dopo per quello che hanno detto mi lasciano ringraziare la professoressa Ines Testoni la quale unisce una formidabile capacità organizzativa un'altrettanto formidabile capacità scientifico filosofica e questo bisogna riconoscerglielo con gratitudine vorrei anche dunque ringraziare sia sua eminenza no ancora eminenza no sua eccellenza Monsignor Sorondo per avere così efficacemente prospettato la concezione cristiana e l'amico vincenzo anche per le sollecitanti provocazioni in chiaro oscuro perché sono complesse e andrebbero considerate con accuratezza vorrei però incominciare non però comunque incominciare con una considerazione sulla struttura del convegno il quale è un convegno tra discipline scientifiche psicologia medicina eccetera filosofia e prospettiva religiosa allora questo significa che i partecipanti al convegno si trovano all'interno di una forma di specializzazione la sommatoria delle specializzazioni provoca il caos perché specializzazione vuol dire chiudersi all'interno di un parametro di una serie di prospettive concettuali che vengono giustapposte ad altre prospettive io non so quanto per esempio i medici presenti abbiano capito quello che ha detto su eminenza Monsignor Sorondo e il professor Vitiello e non so quanto noi filosofi capiremo di certe cose che diranno gli psicologi e allora in questa situazione il risultato è il caos dico dopodiché si affida al singolo ascoltatore il compito di unificare il molteplice separato che qui viene proposto singulatim dai vari relatori è così deprimente la situazione così sconsolata oppure no ecco la risposta che darei è un no radicale anche avendo sentito parlare prima la professoressa Testoni e poi quelli che sono intervenuti e poi il professor Milanelli eccetera e sull'eccellenza Monsignor Colombo il professor Vitiello no perché ma perché ecco perché ci sia un dialogo con un terreno comune il terreno comune nonostante le giuste considerazioni che si sono fatte a proposito dell'oblio della morte il terreno comune c'è il terreno comune e uso una parola un po' astratta ma la spiego è l'ontologia greca abbiamo continuato a parlare di salvezza ma salvezza da che cosa la risposta i greci la danno salvezza non l'ho sentita qui questa parola che nomina il convitato di pietra salvezza dal nulla e se no salvarsi da che cosa si faccia un confronto tra i dolori della parte oriente e i dolori dell'agonizzante e certe volte i dolori della parte oriente sono peggio che non i dolori dell'agonizzante ma qual è la differenza di fondo che la parte oriente sa di dar vita a una vita nuova sopravvivendo ai propri dolori alle proprie sofferenze l'agonizzante crede per lo più che il proprio patire è un chiudere definitivamente i conti con la vita e chiudere definitivamente i conti con la vita è una bella metafora ma i greci la pensano chiudere definitivamente i conti vuol dire andare nel nulla ma non è che la parola nulla non esistesse prima dei greci esiste soltanto che i greci le danno quel significato radicale che ecco la tesi che propongo ai colleghi scienziati religiosi eccetera quel significato radicale che permane e nell'ambito scientifico e certamente nell'ambito filosofico e nell'ambito giuridico e nell'ambito storico e nell'ambito religioso che cos'è il cristianesimo ma anche l'ebraismo ne parleremo domenica ma anche l'islam senza il concetto di creazio ex nihilo io credo che se si proponesse cosa dite se si proponesse al cristianesimo di abolire il concetto di creazione ex nihilo la formula esatta ex nihilo sui et subiecti la struttura di fondo della fede cristiana cadrebbe questo per dire che noi continuamente stiamo su quel terreno comune che ci consente di dialogare eravamo partiti domandandoci come possiamo dialogare da prospettive separate e si possiamo perché ogni momento noi diciamo non ancora non più non esiste più non esiste ancora prima poi ma queste espressioni che noi buttiamo lì e senza di cui non potremmo pronunciare parola ulteriore e queste espressioni ormai che sono entrate nel senso comune hanno alle spalle una lunga storia chi conosce un po' quello che vado dicendo si annoierà perché ripeto quanto appunto vado da tempo dicendo ma hanno alle spalle una lunga storia che incomincia col pensiero greco e arriva su su fino alla celebrazione di questo concetto cioè alla civiltà dell'atenica la quale ormai ha sostituito Dio nella produzione e distruzione del mondo il vecchio Dio che naturalmente è ben vivo dal punto di vista della coscienza cristiana e il vecchio Dio è il creatore distruttore del mondo nell'Apocalisse si parla appunto della distruzione del vecchio cielo e della vecchia terra con la sostituzione del nuovo cielo e della nuova terra che vuol dire che il vecchio cielo e la vecchia terra diventano nulla se così stanno le cose allora c'è un chiamiamolo così alla buona insomma un teorema che la professoressa Testoni sfrutta in modo particolarmente significativo che noi soffriamo in relazione a ciò che crediamo di essere è chiaro che lo dico ai medici c'è una base biologica della sofferenza ma l'atmosfera che dà il timbro a questa base biologica è ciò che crediamo di essere non per nulla il cristiano muore se è fedele alla propria fede con una speranza che non ha per esempio l'amico Vitiello che scrive un bellissimo libro cristianesimo senza redenzione la sofferenza del cristiano morente è diversa da chi muore disperato dico tra parentesi che Agostino diceva che gli uomini all'inferno preferiscono l'inferno all'andare nel nulla è notevole questo ebbene se noi soffriamo in relazione a ciò che crediamo di essere e allora se nel nostro sangue circola quell'ontologia greca quel modo di pensare le cose per il quale le cose escono dal nulla e vanno nel nulla e allora la nostra sofferenza è determinata da questa convinzione di fondo che c'è in noi anche se siamo dei medici degli psicologi anche se siamo senso comune uomini della strada perché ormai quel senso di fondo che rende possibile il dialogo ha penetrato tutto e questo vuol dire allora che anche siccome questo concetto è onnipresente che anche le culture più ottimistiche anche le sapienze più ottimistiche sono nichilismo nel senso che introducono nell'uomo la convinzione che le cose di per se stesse non meritino di essere ma che perché siano occorre la forza di un dio o del caso o della tecnica o delle tecniche le cose di per sé non meritano di essere è chiaro che il tono col quale mi sto un po' calorando nel dire queste cose sottintende non tanto un'altra prospettiva ma sottintende ciò di cui ognuno di noi è profondamente convinto là dove il proprio linguaggio non scende vediamo se riesco così rapidamente a indicare quanto intendo e cioè è l'opposto della convinzione nella nullità delle cose mi ricordo che lo dicevo anche in un'intervista recente mi ricordo quando enunciavo l'affermazione dell'eternità di ogni nostra esperienza cioè ogni cosa è di per sé stessa capace di essere non perché c'è qualcosa un salvatore che la fa essere e che la salva dal nulla quando enunciavo queste affermazioni mi si guardava con un po' di sospetto per essere per non dire altro però l'ignoranza era profonda perché continuo da qualche tempo a ripeterlo signora che non voglio appoggiarmi alla teoria della relatività ma signora che la teoria della relatività espressa in breve afferma appunto che il futuro e il passato non sono meno reali del presente il che vuol dire che futuro presente e passato sono e Karl Popper a Einstein diceva e Einstein era concorde che allora si poteva esprimere la sua prospettiva in termini cinematografici per cui tutti gli eventi del mondo sono la pellicola avvolta in una bobina si dice così mi pare e quindi coesistono coesiste il presente il futuro e il passato ora qui bisogna che gli scienziati si convengano perché la scienza stessa convenire ho detto ho fatto riferimento a Einstein non perché la filosofia chiede aiuto alla scienza perché una filosofia che si riduce come oggi si tende a fare essere una riflessione sulla scienza o ancilla teologie si dice teologie non teologie teologie una filosofia che si riduce al ruolo di ancella è inutile facciamo filosofia solo in quanto apriamo un orizzonte a partire dal quale la scienza procede potremmo dire la manifestazione del mondo la scienza si appoggia alle spalle a questa manifestazione procede oltre ma la filosofia ha proprio il compito di capire che cos'è questo manifestarsi del mondo ebbene vorrei aggiungere ancora questo se abbiamo rilevato l'omnipresenza del concetto ontologico greco occidentale anche Einstein la prima pagina della teoria della relatività dice il concetto di prima di poi non è ulteriormente analizzabile e dal contesto si capisce che anche per lui il primo è ciò che non è ancora e poi è ciò che non è più cioè il prima è l'ancor nulla e il poi è l'ormai nulla se ormai è onnipresente questa persuasione che le cose di per se stesse questa persuasione greca occidentale tecnologica che le cose di per se stesse sono un provvisorio emergere dal nulla eppure questa emersione dal nulla non è sperimentabile non la si sperimenta mi diranno loro ma non vedi l'agonia certo la neghi no ma l'agonia non è l'essere ormai nulla non è la morte pre-ontologica in cui il senso del nulla radicale non è ancora apparsa ormai la morte con i greci diventa il diventare nulla e allora vorrei invitare loro a questo esperimento se noi siamo convinti che la morte sia il diventare nulla anche i cristiani sono convinti perché perché ci sia una resurrezione dei corpi bisogna che la corporeità sia niente poi occorre la grazia di Dio per restituire qualcosa come un corpo glorioso se noi siamo convinti che la morte sia l'annientamento allora l'annientamento non è l'agonia l'agonia è ancora una fase della vita l'annientamento è il risultato dell'agonia e cioè se si è convinti che le cose vadano nel nulla e questo vuol dire che si è insieme convinti che quelle cose che vanno nel nulla non appaiono più l'esempio che amo fare Hiroshima o Hiroshima che sia è stata nient'altra bene ma questo vuol dire forse che Hiroshima continua ad apparire con le sue strade gli abitanti gli eventi che costituivano il suo essere città viva se noi siamo convinti che vada nel nulla siamo convinti che ciò che va nel nulla non appare nemmeno non se ne fa esperienza non è sperimentabile e quindi questa nostra convinzione che tutto vada nel nulla provenendo dal nulla non è una constatazione che possa dire a chi parla come sta parlando il sottoscritto ma tu sei matto non vedi no sei tu che non vedi cioè siamo tutti noi in quanto abitatori dell'occidente a non vedere che la persuasione che le cose vadano nel nulla è insieme la persuasione che le cose non appartengono più all'esperienza che le cose diventate nulla non appartengono più all'esperienza sì che l'affermazione del loro diventare nulla è non una constatazione ma una teoria solida meno solida ma una teoria che va giustificata una teoria che nel migliore dei casi è una fede una fede che è la fede dominante dell'occidente e allora chiudo con questa domanda il compito decisivo del pensare è quello di sviluppare tutti i discorsi che stiamo facendo restando all'interno dell'ontologia greco-occidentale tecnologica oppure il compito decisivo del pensiero è quello di guardare in faccia questa fede e chiederle conto della capacità di portare sulle proprie spalle questo peso enorme che è la storia della civiltà occidentale di solito si dice grazie a questo punto ma insomma siamo siamo noi tutti che diciamo grazie non solo a Emanuele Severino ma a Vincenzo Vitiello ma a signor Sorondo il primo dovere di un moderatore è quello di moderare se stesso di essere quindi moderato e quindi dalla stimolantissima riflessione che ci hanno proposto da punti di vista diversi ma sempre avendo di mira un obiettivo quello di ragionare se posso tentare una sintesi telegrafica sulla crucialità del tempo l'ontologia greca ci porta in questa direzione crucialità che è decisiva del nostro essere ma dentro questa crucialità ci sta una proposta di fede e un'altra proposta di fede quella della filosofia che da Platone in poi ci garantisce che l'essere è quando è otanesti e quindi ci porta a pensare a ciò che è quando non c'è più ciò che è e quindi al di là del suo tempo un tempo che non è più suo ma che non è in una accezione che andrebbe probabilmente approfondita e che non voglio approfondire qui perché voglio lasciare subito la parola alla professoressa Testoni che farà una domanda a partire dalla quale poi riavviamo nel discorso grazie Vincenzo in queste prime tre relazioni sono apparse due parole cruciali che sono ipotesi se ha ragione Emanuele Severino e l'altra è fede convinzione riflettere sulla morte sapendo di essere eterni non è come riflettere sulla morte immaginando che forse possiamo partecipare dell'eternità ma forse siamo annientabili il convitato di pietra di questa discussione è la verità nel momento in cui promuovo una visione della morte come trionfazione ovvero la voglio negare e voglio indicare l'eventualità che esista una salvezza oltre questo confine se la presento come qualcosa che desidero che mi dice il cuore che risulta come esito di un pazzo su una partecipazione si annuncia anche come l'abisso del terrore lo desidero fortemente desidero essere quello che sono ciò che sono e desidero permanere però c'è l'ipotesi che questo non sia vero e sia una illusione è quello che tutto l'ottocento dice arrivando poi col pensiero di Nice e di Gentile al proprio compendio e risoluzione finale ci credi ti va bene usalo lo si dice spesso in medicina lo si dice spesso nelle cure palliative fa bene a chi muore sperare di esistere anche dopo e fa bene anche i familiari è importante iniziare questo congresso perché invece qui vogliamo fare sul serio è per questo che c'è questa tavola rotonda iniziale dunque devo fare a questi tre relatori che rappresentano questo nodo è verità o è illusione la fede che ci fa credere che oltre la morte possiamo immaginarci come ancora esistenti quindi la parola cruciale è verità e questa è la prima parte della domanda a partire dall'indicazione di Severino è impossibile l'ipotesi quindi è necessario sapere dell'eternità ma verità in Severino è anche dialettica come toglimento dell'errore allora la domanda che faccio qui perché stiamo parlando di morte è intravedete a partire dal discorso necessario perché è già stato indicato da tutti e tre che Emanuele Severino argomenta in forma sistematica e non ancora confutata vedete intravedete lo chiedo a tutti e tre quindi anche al maestro la possibilità che la verità dell'indicazione della necessità dell'eternità tolga progressivamente l'errore annunciandosi come presa in carico del pazos che ci porta ad intuirci eterni e dunque a trionfare la morte bene ma guardate non voglio essere offensivo naturalmente davanti a nessuno e tantomeno al professor Severino che è così stimolante e riconosciuto veramente un forte pensatore europeo ma secondo le sue postulati allora dobbiamo fare anche la preparazione della morte dei cani dei gatti perché siamo tutti eterni anche i sassi e quindi questo istituto dovrebbe anche allargare e fare questa psico ontologia tutto eterno quindi io invece dico questa è un'esperienza che ha l'essere umano e allora lì noi possiamo dire sì ci sono certe cose nell'attività umana la ragione questa che trascendono la la corruttibilità la corruttibilità che noi possiamo attribuire in linea generale seguendo in Grecia la materia e l'attività dell'amore la volontà gli atti e quindi noi possiamo supporre che c'è un soggetto ultimo nell'essere umano che che trascende che trascende la la morte la morte biologica fisica del corpo e più o meno questi postulati sono arrivati i greci Platone forse influito dalla religione orfica Pitagore insomma Aristotele più o meno su questo non era molto chiaro ma diciamo questo che per me beh se uno poi prende la riflessione ideologica di San Tommaso che approfondisce secondo anche i neoplatonici questa situazione umana la tessi neoplatonica e l'essere umano è nell'orizzonte del finito dell'infinito del tempo dell'eternità cioè ha qualcosa diverso del resto e naturalmente noi abbiamo questa esperienza ma con un testo bellissimo ancora il San Tommaso nel commento ultimo dei salmi dice noi abbiamo l'esperienza di essere per partecipazione ma certo non abbiamo l'esperienza di essere per essenza l'essere perché ci sono altri esseri che comparten il nostro essere innanzitutto esseri umani e ci sono anche altri esseri non umani che noi diciamo non hanno la coscienza e ci sono infiniti mondi e quindi non possiamo dire che siamo l'essere ma siamo anche i gatti sono eterni eh appunto allora io direi che io comparto con il professor Severino questa vase che per l'essere umano c'è una certa esperienza d'eternità però questa estensione che lui fa a tutto e quindi diciamo ancora più precisamente con categorie filosofica io considero che noi siamo per partecipazione eterni ma e questa è la prima osservazione non così le altre esseri che non hanno questa anima incorruttibile ma hanno singolarmente un'anima che sono le specie e che passa di soggetto in soggetto di fatto i dinosauri sono spariti e non ci sono più non so se ci sono ancora i dinosauri nella nella visione del professor Severino ma dal punto di vista nostro è una specie che è sparita almeno in questo mondo non ci sono più e non ci sono più da milioni di anni e sappiamo che sono esistiti e quindi non c'è più neanche Gesù no appunto non c'è più neanche Gesù in la considerazione e in questa considerazione diciamo materiale biologica però Gesù c'è e nella considerazione appunto come essere partecipato e nel caso di Gesù la sua natura umana noi diciamo che è risuscitata e che è la forza della resurrezione degli altri però a parte di questa parte diciamo così teorica e la base teorica quello che mi ammira in tutti e due professori è che non hanno fatto la minima considerazione etica del problema perché qui secondo anche i greci e naturalmente anche i cristiani la nostra salvezza dipende delle nostre opere se noi siamo portatori del bene agli altri e per noi stessi siamo virtuosi in definitiva ecco c'è la salvezza ma se noi siamo non virtuosi e portatori del male e allora non c'è la salvezza e quindi c'è eternità ma senza salvezza e questo possiamo dire e questo è un punto fondamentale cioè sia per il cristianismo sia per i greci dato che possiamo dire abbiamo un'ontologia come pure non è solo l'ontologia che ci salva ci salva anche le nostre azioni e possiamo essere felici o infelici secondo quello che facciamo è felici o infelici di un punto di vista eterno e quindi è vero diciamo così questo contesto del nulla è vero che questa è una risposta al contesto del nulla e il concetto di creazione finalmente è semplicemente il fatto della dipendenza che noi diciamo è partecipazione di fatto Santo Paso diceva che perfino Platone e Aristotele affermavano il concetto di creazione perché affermavano che gli esseri dipende di un altro cioè in Platone tutte le idee dipendevano finalmente dell'idea del bene in Aristotele tutte le cose dipendevano dell'atto primo che in certo modo teneva tutte le cose quindi erano il mondo eterni ma era l'indipendenza e questo era creazione creazione e di fatto Santo Paso fa la polemica dicendo che il fatto dell'inizio temporale della creazione è un fatto di fede ma non è un fatto di ragioni non si può provare con la ragione secondo Santo Maso che c'è un inizio temporale e questo è un fatto di fede quindi io non direi che il problema è il problema del nulla e del non nulla ma è il problema di come noi partecipiamo dell'essere quindi noi partecipiamo in un modo singolare e questo viene detto dal punto di vista biblico siamo immagini di Dio e dal punto di vista teoretico viene detto che la nostra anima è incorruttibile su questa vasse e qui vado una parola per il professore Vitiello so che molti teologi dicono quello che dice lui quando siamo morti spariamo completamente e poi ci sarà la resurrezione però e questo è una cosa illogica perché resurrezione dal nulla quindi passiamo a essere essere nulla poi dal nulla altri esseri quindi non siamo più le stesse di prima e perciò la maggior parte della tradizione cristiana ha continuato a sosterere a tenere che c'è un soggetto che rimane c'è un soggetto che rimane sul quale sarà la resurrezione finale e quindi siamo le stesse dell'inizio e non una nuova realtà e quindi io torno a dire che sulla base di un modo particolare di partecipare dell'essere che ha l'essere umano che in sostanza è facile dire la tradizione che si è sempre detto l'anima che è incorruttibile la nostra anima è incorruttibile e questo lo dice il catechismo e lo continua a dire il nuovo catechismo e la nostra opera ci darà la grazia di Cristo secondo è si sono buone o non si sono buone e questa è finalmente la salvezza nel senso della felicità grazie ma mi trovo molto imbarazzo perché mi sono state attribuite cose che io non ho mai detto cioè che prima moriamo poi dopo chissà come risuscitiamo eccetera eccetera no 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 io di queste come dire di queste fantasie non ho mai come dire avuto come dire il desiderio il bisogno di coltivarle no io pongo una determinata domanda relativamente alla quale allora semplificando e dicendola nella maniera più paradossale anticipando la questione del prima e del poi io posto una determinata domanda in forma particolarmente paradossale che domani potrebbe non esserci domani e se domani non c'è domani non scompare soltanto il presente eccetera ma scompare il passato scompare tutto questa è la domanda che si pone una domanda che viene posta e posta in maniera fondamentalmente aporetica cioè una domanda che non si capisce come si regge proprio per il semplice motivo e qui entro nella questione posta da Severino dunque non riesco a capire in che questa domanda si pone soltanto all'interno della logica dell'essere del nulla io sono totalmente d'accordo con Emanuele Severino quando dice che noi dobbiamo far indagine non su quello che viene dopo l'ontologia greca ma sulla base stessa ecco e da allora ci dobbiamo porre proprio la questione dell'ontologia greca e la questione dell'ontologia greca si pone innanzitutto domandando ma ci sono poi le cose attenzione quando dico ci sono le cose non sto dicendo che le cose non ci sono sto dicendo che ci sono la domanda intorno alle cose riguarda c'è qualcosa te lo dico proprio nella forma greca katautò o non sono tutte le cose prosallela cioè mi domando esiste questa bottiglia ma questa bottiglia ecco proprio per fare l'esempio più concreto esiste perché ci sono i nostri occhi che la guardano perché c'è la luce perché c'è una determinata forma e c'è toglici tutto questo mi domando che cosa resta tu sei il primo a dire questo l'ho appreso da Tautotes ma già da molto prima sei il primo a dire che esistono l'insieme delle relazioni anche io ti domando ma veramente esistono l'insieme delle relazioni ieri l'insieme delle relazioni perché questo è il punto cioè come il problema che ci dobbiamo porre non è perché se poniamo la questione dell'essere noi ci siamo e beh allora noi ci siamo poi non ci saremo più eccetera questo noi ci siamo evidentemente condiziona tutto il problema relativamente al nulla perché una volta che abbiamo separato essere e nulla abbiamo detto che l'uno richiama l'altro poi si tratta di vedere se in questo richiamo reciproco noi riusciamo a salvare anche il nulla e c'è un punto di Severino che prima non ho citato ma che alla fine voglio citare e scusate vi prenderò un po' di tempo in più ma voglio come dire e voglio farlo alla fine proprio perché il dialogo con Severino è per me essenziale per le ragioni che ho detto ed allora io pongo questo problema ci sono le cose ha senso porsi la domanda ci sono le cose ha senso porsi la domanda essere nulla questa distinzione certamente che ha senso ha senso perché noi facciamo tutte le nostre operazioni che è quello l'acqua non c'è nel bicchiere per cortesia riempimi il bicchiere eccetera eccetera usiamo queste cose ma come sono sorte qual è la genealogia di queste distinzioni queste distinzioni si possono come dire portare al di fuori di quelle determinazioni che sono il nostro vivere comune il nostro vivere quotidiano possiamo parlare della morte così come parliamo del bicchiere pieno e del bicchiere vuoto io credo che questo davanti al problema della morte ecco perché iniziamo dicendo quello che io intendo fare è salvare la morte non superarla non redimela ma salvare la morte perché soltanto a partire da questa salvazione che significa mettere in discussione proprio l'ontologia greca che peraltro poi è meno come dire rigida già nel sofista ci sta tutta la questione come dire del catautò del prosallela e a mio avviso ma non stiamo facendo come dire un seminario di filosofia e particolarmente di filosofia greca a mio avviso come dire il prosallela nel sofista prende totalmente il sopravvento rispetto al catautò eccetera eccetera ma so che tu la pensi diversamente ma questo potremmo continuare all'infinito dico soltanto che ci sono determinate questioni relativamente alle quali come dire si avverte il limite del pensiero la capacità di giungere sino ad un certo punto e poi il resto il resto lasciamolo anche un poco a quella parola che mi sembra che proprio padre Sorondo eminenza come ti voglio amare eccellenza basta dunque io come dire mi rivolgo come dire all'amico Barcello che ho conosciuto tanti anni fa e con cui come dire ho diviso anche l'ironia con cui guarda mentre uno parla tenete presente che è un come dire una maniera per mettere in dubbio anche la propria foga quindi per mettere in dubbio se stessa insomma sembra che della filosofia se vengono filosofia insomma ecco e questo qui si apprende anche da un sorriso dunque detto tutto questo il mio problema è di vedere in certe posizioni come rispetto al tema della morte che poi il tema dell'errore il tema del falso il tema dell'onlogico eccetera eccetera viene assunto e adesso quindi non pongo il problema di come io considero come viene assunto credo che ci sono due modi diversi di assumere c'è un modo diverso per cui come dire la salvazione dell'errore lascia l'errore in quanto tale e io credo che questo sia proprio il metodo come dire del cristianesimo c'è un'altra esperienza da fare un'esperienza che invece è stata realizzata dalla filosofia che da questo punto di vista si pone al di fuori del cristianesimo anche in un'esperienza alta come quella di Hegel filosofo veramente cristiano alta perché il cristianesimo filosofico di Hegel è tutt'altra cosa dal cristianesimo religioso di Gesù ma detto questo e fatte queste precisazioni voglio tornare proprio a Emanuele Severino e già che mi sono trascritto un passo di oltrepassare lo cito anche perché ha molto molto da come dire richiama molto questi passi evangelici e l'esperienza cristiana e Severino oltrepassare dice scrive così il venerdì santo è un essente parentesi un eterno il cui apparire non precede l'apparire dell'essente cioè dell'eterno in cui consiste la Pasqua ma può apparire in ogni cerchio del destino solo in quanto appare la Pasqua cioè appare la liberazione dalla solitudine della terra dal fondamento dell'essere mortale della morte del dolore e di quella forma del dolore che è il piacere questo è il riferimento al testo precedente a gloria di cui oltrepassare è per buona parte un commento esplicativo e non dare innanzi cioè Severino ci ha detto questo guardate che relativamente al venerdì santo cioè alla morte nella passione eccetera eccetera questo è un venerdì santo proprio in quanto vi è la Pasqua della resurrezione è nell'orizzonte della Pasqua che il venerdì è un venerdì santo e così via e non viceversa cioè è nell'orizzonte della verità che voi potete capire l'errore e non viceversa vediamo come continua questa liberazione non solo non è l'annientamento della terra isolata diciamo subito dell'errore cioè del venerdì santo separato dalla Pasqua della resurrezione ma non è nemmeno il suo parziale o totale rimanere nell'oblio è necessario guardate questo è un punto fondamentale che pone una differenza radicale non solo tra Severino ed Egel ma tra Severino e le precedenti cose dette da Severino è necessario che il negativo appaia in tutta la sua pienezza perché il positivo ne sia l'oltrepassamento concreto è necessario che la pienezza del negativo appaia nell'evento stesso con cui appare il suo concreto oltrepassamento io credo che queste parole siano le più alte che Severino ha detto in prossimità del cristianesimo cioè se volete il bene del cristianesimo il bene di cui il cristianesimo parla questo voglio dire beh dovete avere la capacità di portare con voi di sopportare che significa portare e soffrire totalmente il negativo non c'è verità che non sia sopportazione di questo negativo Paolo si esprimeva in altri termini prima Tessalonicesi parla la verità cristiana si vive entripsi entripsi cioè nel turbamento nella sofferenza e così via di seguito ecco carissimo Emanuele maestro di tutti noi o almeno mio anche se sono come dire un allievo particolarmente indisciplinato dunque ti posso dire questo e da queste parole che io in queste parole io trovo come dire una conferma di quello che cerco di affermare non ci sono le cose non c'è essere nulla non c'è logica e non logica non c'è verità ed errore c'è la nostra vita che è l'unione di questo la nostra vita che è vivere la morte grazie ma sono molte le sollecitazioni mi pare che abbiamo sette minuti a testa anche otto sono molte le sollecitazioni cominciando da quella del professor milanesi e poi vorrei mettere insieme quella della professoressa Testoni che chiedeva il rapporto tra verità e errore che poi si è ripresentato in quello che ha detto l'amico Vincenzo Vittiero ma in qualche modo anche in quello che ha detto Sua Eccellenza Monsignor Marcello Zorondo a proposito dei gatti io parlerei anche come parlo spesso del filo d'erba dell'ombra la più fugace possibile ma lo stesso Dio vetero testamentario ha sentito il bisogno di corredare il mondo di gatti e di fili d'erba Adamo non è lì solo senza gli animali le piante il firmamento la terra il cielo a noi interessa questa vita e questa vita che innanzitutto è eterna perché se parliamo di un'immortalità dell'anima che prescinde da questo nostro vivere direi che facendo un po' un soldaggio statistico viene fuori che ci interessa abbastanza poco questa immortalità in cui alia io non ho parlato incorruttibilità perché bisogna essere preciso ecco va bene va bene allora ec vita non alia est sempre eterna innanzitutto e poi tutto ciò che è io non ho mai parlato di eternità dell'uomo ho parlato sempre forse in questa occasione ero emozionato e in questa occasione ho parlato di tutte le ho parlato di eternità di tutte le cose ma l'espressione corretta è eternità dell'essente in quanto essente quindi è essente in quanto essente qui Tommaso le sapeva molto bene queste cose sia il filo d'erba sia l'uomo sia Dio anche il sasso anche il sasso anche il sasso allora ritorniamo all'implicazione verità errore ecco siccome va distinto e qui sarebbe interessante sentire anche la vostra opinione il contenuto dell'errare dell'errore l'essere uguale a uno da parte di uno più uno è impossibile è nulla ma il credere che uno più uno faccia uno può capitare e questo non è un nulla è un qualche cosa ma questo vuol dire che anche l'errore è eterno e qui vorrei dire all'amico su eccellenza eccetera noi crediamo voi cristiani credete che Cristo stia in cielo avendo dimenticato la propria passione c'è un passo formidabile di Paolo dove dice è un qui non novera peccatum peccatum fecit il soggetto è Deus Dio fece peccato colui che non conosceva peccato ut efficiamo giustizia Dei perché manifestiamo la giustizia di Dio che vuol dire il renderci giusti senza che ce lo meritiamo perché ma perché ha caricato cioè ha reso maledizione questo è il testo evangelico ha reso totalmente negativo cioè totalmente errore il Cristo l'ha caricato di tutti i peccati e cioè di tutti gli errori del mondo errori che sono impossibili senza i cani e i gatti tra l'altro l'ha caricato allora possiamo pensare a un Cristo che siede alla destra del Padre avendo dimenticato il proprio soffrire e cioè il proprio essersi caricato sulle spalle i peccati del mondo no? ecco estendiamo il senso del discorso che facevo estendiamo questo discorso che viene riferito dalla narrazione cristiana in greco narrazione si dice mitos ecco estendiamo questo concetto dall'individuo Cristo a ognuno di noi ognuno di noi è il rapporto tra la verità e l'eternità dell'errore io mi trovo pienamente d'accordo anche con questo passo che però tu dicevi che eri in contraddizione con quello che avevo detto prima no non prima in questo libro prima nella struttura origina c'era poi ecco la questione dell'incontrovertibilità è chiaro che queste cose ma anche le cose dette da sua eccellenza come le cose dette dal professor Vitiello in quanto semplicemente enunciate lo dicevo ieri alla professoressa Tetonia e agli amici qui in quanto semplicemente enunciati non godano del privilegio della fede e della scienza perché la fede dice è così uno può credere anche immediatamente la scienza che cosa fa la scienza dice va a vedere che cosa io sono capace di fare e allora l'autorità della scienza consiste nella fede che noi siamo convinti della potenza della scienza è una fede perché se andassimo a vedere come stanno le cose non è che sia una verità oggettiva la potenza della scienza ma lasciamo vedere la scienza può avvalersi dei suoi cosiddetti risultati osservabili e la filosofia no la filosofia se si tira via la fondazione di quello che si dice resta un mito e penso che molti di loro sentendo il sottoscritto parlare abbia detto è uno dei tanti miti che sono in circolazione uno dice una cosa Severino afferma l'eternità di tutte le cose però ieri siccome ci siamo incontrati amabilmente la sera ne parlavamo e sono d'accordo sul fatto che la domanda non precede la risposta se ho capito bene è perché c'è la verità che si possono fare domande perché altrimenti le domande sono senza verità la più critica delle domande perché deve essere fatta allora tu dicevi in base a che cosa diciamo che le cose sono che ci sono cose siamo il dunque ma è il dunque che insieme a molti altri dunque abbiamo lasciato da parte perché altrimenti avremmo fatto un seminario di filosofia perché ci sono le cose ecco sostengo e questa parola è assolutamente impropria che l'affermazione è che per la scienza è sufficiente ma anche per la religione c'è il mondo e no sostengo che questo è un dogma perché proviamo a dire all'uomo comune bene tu sei convinto che c'è il mondo ma perché e allora dirà ma va mi manderà a quel paese perché gli chiedo perché però non saprà rispondere crediamo vogliamo che ci sia il mondo allora se vogliamo andare oltre se crediamo nella possibilità di andare oltre la volontà e allora l'affermazione che ci sono le cose che ci sono cose è un'affermazione la cui negazione implica la negazione di se stessa se io dico non c'è la platea è necessario che questo che nego sia lì davanti perché se non stesse davanti la mia negazione non sarebbe un errore quindi bisogna che innanzitutto mi stia davanti e che di questo che mi sta davanti io dica non c'è cosa c'era il nulla gli sta davanti professore il nulla ho detto prima che il nulla non sta davanti e allora non può parlare come le cose che non stanno davanti il nulla non può parlare non può parlare la fede che crede che il nulla stia davanti però lei avrebbe dovuto dirmi Severino ti smonto la tesi per la quale la nientificazione delle cose non appare io questo smontaggio non l'ho sentito no perché io sono d'accordo con la idea sua di che nell'uomo c'è no no sto dicendo sto dicendo della tesi che non appare l'annullamento delle cose ecco qui se non si smonta questo ma io comunque ho dimenticato una quantità di osservazioni professoressa Testoni ho dimenticato sono nei sette minuti assolutamente può continuare non ci eravamo accorti che era finito non ci eravamo accorti che era finito la dimostrazione che non ci siamo accorti che era finito porta acqua al mulino della tesi di Severino con questa battuta che spero mi sarà perdonata vorrei davvero ringraziare i partecipanti a questo incontro che che resterà comunque nella memoria di chi vi ha partecipato per la profondità delle riflessioni svolte per la genialità delle obiezioni che sono state presentate da parte di tutti e tre i relatori alle tesi alle tesi del nel contraddittorio che potrebbe continuare e la grandezza della filosofia è proprio questo palinex archess che ci ha insegnato Platone nonostante tutti i suoi errori grazie a tutti grazie a voi c'è un'etica la risposta ringraziamo ringraziamo infinitamente adesso ci prepariamo per le sessioni parallele ringraziamo nonostante aviam attra attra attra